ben ritrovati con la nuova puntata di social news il nostro tgweb ci alessandra per informarvi vi diamo il benvenuto in questo venerdì 17 di un anno business stile post lockdown vediamo come andrà questa edizione a cominciare dai titoli importanti di questa puntata parleremo di imboschimento e pioppi, le misure PSR, quale stagione per il miele? donne in campo al melchioni caffè, assicurazioni contro il maltempo e cia legends quella volta a brussell e cominciamo con il piopicoltore Massimo Ponta, anche presidente di zona Cia Alessandria che commenta la possibilità prevista da una misura del PSR della regione Piemonte a sostegno dell'imboschimento Cia Alessandria ha collaborato con Assolegno per i risultati ottenuti, sentiamo è un'opportunità interessante, però noi non abbiamo ancora i decreti che possono poi essere attuati per quanto sono le misure vere e proprie, si compongono di due punti principali che sono la classica misura sul rimboschimento, la vecchia 2080 chiamiamola così con arboricoltura da legno con una dorata superiore ai 15 anni, 15-20 anni e invece poi la misura al punto 1 dovrebbe essere invece la piopicoltura vera e propria quindi con un ciclo di rotazione da un minimo di 8 anni Per adesso non sappiamo ancora nulla, per quanto riguarda la piopicoltura di cui io un pochettino mi occupo la scorsa tornata non è stata molto, tra virgolette, interessata per quanto riguarda i piopicoltori perché vi erano un po' di restrizioni che spesso non venivano capite e anche i tempi molto stretti di presentazione delle domande non hanno aiutato Speriamo che stavolta sia tutto più facile e anche più allettante In questo momento la piopicoltura sta un pochettino fermandosi causa non solo del Covid ma anche di una situazione un pochettino precedente sull'appettibilità e soprattutto sulla produzione ovviamente di mobili quindi una contrazione di quello che è poi l'utilizzo vero e proprio del legno che l'agricoltore e il piopicoltore produce I prezzi sono in leggera flessione e li vengono ancora adattati a 10 euro al quintale per le nostre classiche varietà quindi 2,14 eccetera però in questo momento non si riescono più a prendere quindi c'è un po' un calo e quindi potrebbe essere un'opportunità Ricordiamo che le misure di imboschimento vanno a pagare quello che è il discorso di piantumazione per quanto riguarda la piopicoltura quindi un contributo sulla piantumazione mentre invece sull'imboschimento quindi terreni che magari sono marginali che possono essere utilizzati per piantumare varietà quali aceri e altri tipo ciliegi da legno eccetera mentre invece su terreni un po' più marginali possono avere un contributo sulla piantumazione sul mantenimento e sul mancato raccolto per i primi 5 anni quindi interessante la prima misura è solo per le persone fisico, le imprese mentre invece le altre due misure sono anche per gli enti pubblici, enti locali quindi tutto un po' da una virgolette da vedere e può essere un'opportunità per coloro che vogliono sfruttare questo capitolo del PSR Il nuovo presidente di zona della CIA di Casale Monferrato è Marco Di Ambrogio lo vedete in foto, titolare dell'azienda agricola Fratelli Di Ambrogio in frazione Terra Nova a Casale Monferrato l'elezione si è svolta ieri sera a Villa Ronco nella prossima edizione del nostro Tg vi proporremo un focus di approfondimento un'intervista con il nuovo presidente mentre vi informiamo che martedì 21 luglio si eleggerà anche il nuovo rappresentante per la CIA di Ovada alle ore 18 nell'azienda VTV Nicola Fratelli Facchino di Rocca Grimalda qui l'elezione avverrà per supplire alla mancanza di Alvio Pestarino prematuramente scomparso lo scorso febbraio vi aggiorneremo sui nomi nella prossima edizione del nostro Tg Abbiamo parlato quindi di riso e adesso parliamo di miele queste sono alcune produzioni dell'azienda agricole del nostro territorio ve le facciamo vedere perché il nostro socio Paolo Botta racconta come sta andando dal suo punto di vista la stagione 2020 per la produzione apistica e ci mette in guardia dalla concorrenza estera molto agguerita e ci spiega perché Parliamo di apicoltura, che stagione è quella che caratterizza il 2020? Tra tante difficoltà questo è un settore che si salva quest'anno? Si salva diciamo che rispetto alle annate precedenti è migliore quest'anno non è delle migliori ma è relativamente buona però ho sentito in giro per tutto il Piemonte e anche in Italia è molto a macchia di leopardo ci sono zone in cui si è raccolto abbastanza e ci sono zone in cui non si è raccolto niente qui in questa zona si è raccolto abbastanza diciamo Ma questo da cosa dipende? Quali sono le problematiche che affliggono l'apicoltura? Sono tante problematiche e si fa fatica anche per chi è esperto anche per chi è 40 anni che fa questo mestiere a volte ha difficoltà a capire fin dove è causa di un pesticida o di un veleno quando è causa dell'annata, del tempo, quando è causa di non so che cosa quindi si fa fatica anche a prendere i provvedimenti per cercare di risolverli i problemi Quante arnie hai? Un'ottantina, circa un'ottantina E che tipo di miele fai? Qui facciamo la caccia, poi si fa mille fiori e melata La trasformazione avviene in azienda con un laboratorio attrazzato? Sì, ci siamo messi a posto con un laboratorio in regola con tutte le disposizioni in modo da non avere problemi Cosa dire al consumatore che deve scegliere il prodotto? L'apicoltura soffre di una concorrenza estera spietata? Sì, è una brutta concorrenza Purtroppo non si riesce a far valere più di tanto i nostri diritti perché questo miele che arriva da fuori arriva in condizioni che è difficile distinguerlo quindi una volta che è sul mercato, è sul mercato e si subisce più che altro Perché quello italiano è migliore? Ma per un motivo principale che quello italiano l'hanno fatto le api la maggior parte del miele che c'è in giro non l'hanno fatto le api e quello dice tutto E si svolgerà venerdì 31 luglio alle ore 16 l'inaugurazione ufficiale della nostra nuova sede CIA Tortona in corso della Repubblica 25 più o meno davanti alla stazione saranno presenti i dirigenti dell'organizzazione il sindaco e l'assessore competente del Comune di Tortona il consiglio direttivo e i soci di zona il trasferimento degli uffici CIA da via Montemerlo si inserisce nell'ottica di rendere in corso della Repubblica più accessibile la fruzione degli spazi al pubblico con ampio parcheggio vicino alla stazione dicevamo in una posizione strategica rispetto a prima i contatti della sede restano invece invariati Evento di Donne in Campo C e Alessandra Melchioni Caffè lo scorso venerdì i prodotti e le esperienze in agricoltura delle imprenditrici Ursula Store Simona Gaviati, Samantha Fara e Gabriella D'Amico nei piatti e nelle degustazioni del locale di Fabio Perugini in via Kenna 18 l'intervista al nostro vice direttore Cinzia Cottali Evento Donne in Campo al Melchioni Caffè ad Alessandra per valorezzare e far conoscere il ruolo della donna in agricoltura che non è una figura così rara No assolutamente no, oltretutto riprendiamo questa iniziativa che in realtà era in programma per marzo poi è successo quello che ormai tutti sanno e ben conoscono è un modo come un altro per ripartire anzi visto che lo slogan di Cia è stato fin dall'inizio noi non ci arrendiamo è un modo come un altro per dimostrare che non ci siamo arrese e anzi continuiamo con le nostre attività questa sera abbiamo avuto la fortuna di poter appunto ricominciare da qui con la partecipazione, la gentile partecipazione di quattro nostre aziende di quattro nostre imprenditrici donne che ci dimostrano e ci raccontano attraverso i loro prodotti qual è la loro storia e oltretutto qual è il territorio da cui provengono e quindi le bontà che riescono ad offrirci negli uffici Cia si parla spesso purtroppo di eventi calamitosi o sfortunati vediamo allora come ci viene incontro l'assicurazione ce lo spiega Andrea Taverna cotitolare dell'agenzia Unipol Sai Alessandria in via Fadi Bruna allora con il nostro prodotto agricoltura e servizi un prodotto molto molto completo che prevede la garanzia, parte dalla garanzia dell'incendio dei fabbricati stessi collegati all'azienda agricola con varie possibilità che comprendono anche eventi atmosferici ed eventi catastrofali quali terremoto e alluvione strutture e capannoni agricoli o anche casa? strutture e capannoni agricoli e soprattutto casa che è possibile collegare naturalmente a questa polizza che comprende anche l'azienda agricola come fare per saperne di più? per saperne di più siamo a completa disposizione i nostri uffici via Fadi Bruno 33 ad Alessandria siamo a Valenza, siamo a Morisengo, siamo a Dovada siamo a completa disposizione per fare noi personalmente con del personale altamente specializzato dei sopralluoghi strumenti per effettuare lo stress test di marketing e progetto di consegne a domicilio dei prodotti agroalimentari se ne parlerà ad un incontro organizzato da CIA con l'agenzia Leonardo OSM che si svolgerà il prossimo 23 luglio alle 16 al Green Bar ad Alessandria in zona Retail Park i consulenti aziendali forniranno informazioni e strumenti di prova per offrire alle aziende nuove opportunità per uscire dalla crisi partendo da un'analisi aziendale individuale la prenotazione è obbligatoria abbiamo un massimo disponibile di 30 posti per ragioni di sicurezza e potete aderire scrivendo anche alla mia mail personale g.notarianni.it e adesso vi portiamo in piazza a Bruxelles con un estratto della trasmissione di circa 30 anni fa l'erba del vicino in onda su Telecity e condotta dall'indimenticabile Dino Crocco era il tempo quello delle grandi manifestazioni di piazza allora vediamo se qualcuno di voi si riconosce nelle immagini che andiamo a vedere prima del commento dell'allora presidente provinciale Roberto Ercole e poi si riconosce ecco qui agricoltori italiani che significa tutti uniti per l'agricoltura italiana perché viene penalizzata e i coltivatori non ce la fanno più un esperto di agricoltura un dottore dell'agricoltura doveva questa agricoltura dove dove i governi politici la vogliono mandare e dove gli agricoltori saranno in grado di portarlo con le loro forze ben trovati a questa puntata dell'erba delle vicino che sarà interamente dedicata alla grossissima amministrazione che si è tenuta il 3 dicembre lunedì scorso quindi a bruxelles mentre noi parleremo e cercheremo di capire e di approfondire meglio il tema della dell'agricoltura in questo particolare momento di collasso che sta attraversando scurreranno le immagini dell'anestazione ma subito la parola al presidente della conf cultivatori della provincia di alessandria roberto ercole che dovrà lui fare il punto e rispondere a quale interrogativo che ha lasciato quell'agricoltore che abbiamo visto e abbiamo appena intervistato durante la manifestazione sì io credo che le immagini siano molto eloquenti la tua presenza ha consentito anche a noi qui in alessandria di renderci conto dell'importanza e della grandezza di questa manifestazione i problemi che sono lì dibattuti sono estremamente gravi l'abbiamo detto per l'agricoltura italiana una forza unitaria del mondo agricolo e io credo nonostante un certo pessimismo che ho che ci siano le condizioni e quindi le possibilità concrete di cambiare in italia e in europa il rapporto tra l'agricoltura e il resto della società e con questa rubrica che abbiamo chiamato cia legends che piace molto siamo giunti al termine di questa edizione di venerdì 17 di un anno bisestile siamo giunti a conclusione senza intoppi noi vi invitiamo chiaramente a scriverci segnalazioni domande quello di cui vorreste sentire parlare fatelo scrivendo una mail ad alessandria.ca.it oppure alla mia g.notarianni.ca.it e poi vi invitiamo a seguirci attraverso i social da cui il nome del nostro format prodotto da double news il nostro sito internet cial.it e i nostri canali youtube facebook instagram e telegram grazie di averci seguito appuntamento alla prossima settimana con social news ciao